il 25 aprile una ricorrenza da celebrare nonostante il male che oggi preoccupa l'umanità è una bella ricorrenza segna la fine della seconda guerra mondiale scatenata dal nazismo nel 1939 condivisa dal fascismo con l'attacco alla francia nel 1940 una guerra che ha ucciso più di 50 milioni di uomini donne e bambini che nel cuore della civile europa ha sperimentato i campi di sterminio e i bombardamenti a tappeto sulle città cancellando secoli d'arte e di storia un conflitto che si è concluso sperimentando la potenza distruttiva dell'atomica sul giappone ho una lunga vita ho vissuto e sofferto quel tempo non si deve paragonarlo al dramma del presente ricordo che alla fine della guerra in italia mancava anche il pane e il presidente alcide de gasperi visibilmente umiliato andò a chiedere del grano agli stati uniti l'italia tornerà alla normalità allora da paese povero agricolo distrutto nella straordinaria ricostruzione è diventato il quinto paese industriale del mondo dalle spaventose condizioni lasciate dalla guerra nascevano grandi speranze di cambiamento e in italia è stata scritta la costituzione che ci onora ancora oggi i nuovi grandi organismi internazionali promettevano un futuro di pace di cooperazione di abbattimento della fame e delle malattie non è avvenuto ancora si spendono ricchezze nelle armi si fanno le guerre si va nello spazio e si distrugge la terra la scienza e la tecnica hanno reso più comoda la vita nelle società evolute quale sarà il futuro non si può prevedere è cambiato il clima l'aria inquinata si sciolgono più rapidamente gli acciai si scatenano tempeste incendi spaventosi il mare inquinato e vi galleggiano isole di plastica la potenza delle comunicazioni ha prodotto la globalizzazione e i poveri della terra cercano di emigrare ad ogni costo nei paesi ricchi dove non c'è fame e guerra nei paesi ricchi del cristianesimo torna minaccioso l'egoismo dei nazionalismi c'è bisogno di una nuova resistenza oggi 25 aprile è giorno di festa e di memoria si deve raccontare la storia ai giovani è pericoloso perdere la memoria si rischia tragicamente di ripetere i mali del passato lina tridenti 25 aprile 2020 quindi Grazie a tutti.